Ma intanto me l'aspettavo una partita complicatissima perché una società quando cambia l'allenatore non ha i punti di riferimento per poter preparare tatticamente la partita. Mi aspettavo che oggi il Messina mettesse in campo tutto quello che aveva. Sapevo che saremmo andati a sbattere contro un muro di una squadra tosta e quindi avevo anche dei timori. Non è vero che il primo tempo secondo me non abbiamo fatto bene. Abbiamo provato a creare, alla prima occasione abbiamo preso gol e forse abbiamo fatto un po' di confusione. Il secondo tempo ci siamo ritrovati ma non era semplice trovare il gol. Quando l'abbiamo trovato ho avuto la sensazione che potevamo assolutamente fare il secondo e abbiamo ripreso il gol in una delle poche sortite del Messina fuori dal loro metà campo. Dobbiamo aumentare la concentrazione perché ci sono già costati questo tipo di partite. È stata così anche a Latina, ci sono già costati tanti punti. Però il punto di oggi diventa importante se mercoledì contro il Monopoli facciamo una grande prestazione. Noi la partita con il Monopoli, la prima giornata di campionato, non l'abbiamo giocata. Non siamo scesi in campo perché non siamo scesi in campo e quindi sto aspettando da un girone di giocare questa partita perché a Monopoli per mille problematiche, per mille difficoltà non siamo veramente scesi in campo. E quindi la partita di mercoledì chiude un'annata e quindi voglio dare valore a questo punto guadagnato oggi.